Ciao signore e signori. Benvenuto nel mio canale commentatore donna. Non dimenticare di seguirmi e di mettere mi piace ai miei video per le ultime notizie. Questo è importante per me. Francesca Chillemi è pronta per le riprese di Viola come il mare 2. C'è anche Cagnaman? Lo spoiler dal camerino sul set. Viola come il mare ha sconvolto i palinsesti autunnali lo scorso anno, giungendo come un tornado su canale 5. Una coppia inedita, format da due attori tra i più belli suo piccolo schermo. Parliamo di Francesca Chillemi e Cagnaman. Lei è reduce dal grande successo di Che Dio ci aiuti. Impossibile non restare folgorati dal carattere e dalla personalità della sua azzurra. Qui è la protagonista Viola, e presenta delle caratteristiche simili alla novizia che invece abbiamo visto su Rai 1. Il poliziotto Francesco Demir è invece il divo turco Cagnomen, qui dove è stato avvistato recentemente, in quella che è la sua primissima interpretazione in lingua italiana. Dopo spot pubblicitari e brevi comparse in altre fiction. Tra i due c'è un'intesa talmente tanto forte da portare il mondo della cronaca rosa ad andare oltre e vederci altro. A quanto pare c'è solo un ottimo rapporto che non implica sentimenti che spocino nell'amore. La Chillemi è impegnatissima con Stefano Rosso e insieme hanno una figlia, la piccola Rania. Mediaset ha rinnovato con Lux vide la fiction per una seconda stagione. I primi spoiler. Non sappiamo se siano già effettivamente iniziate le riprese di Viola come Il mare 2, oppure alcuni degli attori o tutto il cast si siano trovati per la lettura del copione preliminare. A quanto pare l'ipotesi più plausibile è la prima, siccome le immagini mostrate da Francesca Chillemi parlano chiaro. L'attrice siciliana è reduce dal grande successo di Che Dio ci aiuti, e in seguito si è dedicata all'attività sui social e quella come modella. Essendo molto attiva in questo senso, viene invitata ai principali eventi e in ogni occasione, sfoggia dei look mozzafiato. Veniamo ad oggi e a dove si trova in questo momento. A quanto pare, ancora nessuna traccia di Kenyomen sul set della fiction di Canale 5. Anche questa volta sarà la Sicilia sullo sfondo e abbiamo testimonianze solo da parte della protagonista femminile in questo momento. Il dettaglio che salta all'occhio è la scritta in basso a destra sul copione. Definitiva 3 luglio 2023, ovvero la giornata di oggi. Pare proprio si tratti del primo giorno effettivo di riprese, dopo la messa a punto definitiva della sceneggiatura. Iniziamo della Chillemi inoltre, fa chiaramente capire che lei e i colleghi sono pronti per lanciarsi in questa nuova avventura che durerà per tutta l'estate.